Non è un ticket regionale, è un ticket nazionale che tutte le regioni sono tenute ad applicare. Noi, opponendoci fino al 4 agosto, data in cui abbiamo adottato la delibera di recepimento, abbiamo deciso di applicarlo con una modalità diversa, concordata con Toscana e Umbria, che ha il fine di evitare che paghi di più chi ha più bisogno e chi usa di più il servizio sanitario e viceversa chi contribuisca di più, chi ha più risorse e chi ha un reddito maggiore. Dal 29 agosto noi partiamo, poi siamo del tutto consapevoli che in tutti i processi organizzativi nuovi c'è una fase d'avvio in cui daremo tutto il sostegno e tutto l'accompagnamento ai cittadini, per dare una risposta al caso specifico. Il cittadino che si presenta dal 29 agosto in farmacia, con la ricetta. Un cittadino molto informato e molto solerte ha compilato il modulo, non c'è nessun problema, non ha compilato il modulo, la prestazione gli viene resa in tutti i casi, gli viene consegnato il farmaco, il farmacista, se facciamo il caso della farmacia, ma potremmo fare lo stesso caso per una prestazione ambulatoriale, per una visita o per un esame diagnostico, gli consegna un materiale informativo, che comprende anche il modulo, e lo invita a regolarizzare la sua posizione entro due mesi. L'autocertificazione, che è l'unica modalità possibile ed è quella adottata anche nelle altre regioni, si realizza attraverso un modo il più semplice possibile. E' la compilazione di un modulo molto semplice, elementare, una volta sola. Quel modulo viene detenuto da ciascun cittadino e per aiutarlo, nel caso in cui non voglia autocompilarlo alla compilazione, sono disponibili non solo tutti gli sportelli delle aziende sanitarie, ma tutti i patronati, sindacati, le organizzazioni di categoria, con i quali abbiamo sottoscritto degli accordi di collaborazione. Questo titolo, che è permanente, è il titolo di autocertificazione, che identifica con chiarezza a quale fascia di reddito appartiene il cittadino. Quindi il cittadino non esente, perché naturalmente tutti gli esenti hanno già un titolo, hanno già una certificazione, e quindi parliamo del 40% dei cittadini, i non esenti, avranno un titolo che insieme alla ricetta, in qualsiasi sportello al quale accedano al servizio, sia per prenotare una visita, sia per effettuare un esame, sia per ritirare un farmaco, utilizzano per avere la prestazione e per vedere calcolato automaticamente l'importo del ticket. Grazie.